questa volta ho rubato il microfono a Pia per questa nuova puntata dell'Italia di Pia parleremo di arte e ci troviamo in un negozio un po' particolare di Bologna dove troviamo due amiche Pia ovviamente e anche Ornella che è all'opera quindi buongiorno a tutti e due grazie ciao Wiki buongiorno ciao io sono Ornella Stingo grazie di essere venuti Ornella è una mia carissima amica io sono come sempre lo sapete un'appassionata d'arte e lei proprio è per me un'icona, una pittrice, guarda ti do un bacio grazie sono entrata in maniera un po' irruente nel tuo negozio che dove si trova innanzitutto? in via Riva di Reno 80 barra F in pieno centro di Bologna sono da 15 anni all'opera con questo genere di quadri cosa stai per esempio dipingendo? Da dove ti prende l'ispirazione? insomma una cosa da dove ti stai attingendo anche per i colori? per quello che è dove siamo qui a Venezia? sì questa è un'interpretazione della punta della dogana un dipinto per un cliente questo sto utilizzando una tecnica olio su tela con uno stile abbastanza complesso che richiede molto tempo è praticamente un po' come fare un mosaico perché ogni pezzettino ha un colore diverso dall'altro per cui richiede molto tempo di lavorazione è lo stile che ho sviluppato negli ultimi anni a cui mi sto dedicando praticamente sempre praticamente te l'hai ripreso da una foto che hai fatto te o te l'hanno portata? è una foto che ho estrapolato nella ricerca di varie immagini in accordo con il cliente che ha scelto il cliente e poi l'ho elaborata in maniera grafica ho cambiato le tonalità ho adattato insomma secondo i miei gusti quello che è ai gusti del cliente ho cercato di insomma presentargli vari progetti varie bozze e lui ha provato questo e così quanto tempo ci vuole per realizzare un quadro di che dimensione è Ornella questo quadro? questo è un metro per un metro circa un metro e dieci ci vorrà su questo soggetto che non è particolarmente complesso perché abbiamo tutta la campitura in alto che è libera da dettagli invece la parte in basso è già più complessa siamo su circa un mese di lavoro ecco tu dicevi Ornella hai parlato di cliente quindi qui uno può venire con un suo ricordo con un'immagine e tu realizzi ad hoc quello che è qualsiasi soggetto qualsiasi dimensione qualsiasi genere perché poi riesco a copiare anche qualsiasi artista per cui da Van Gogh a Picasso a Caravaggio o comunque i quadri originali sottoponendo delle bozze questo è dicevi olio su tela ma ti fai anche acquarelli e anche altro acrilico? no acquarello no utilizzo a volte degli acrilici a seconda della necessità di procedere più in fretta o meno ma solo per la preparazione di alcuni fondi con l'acrilico da lì che hai iniziato a stendere il colore diciamo quanto ci vuole per seccarsi? lo devi ritoccare sopra come funziona? ogni colore ha dei tempi di asciugatura vuoi mentre provare a fare qualcosa? sì ogni colore ha dei tempi di asciugatura a sé perché sono praticamente delle reazioni chimiche scusa ogni colore in che senso? il marrone diverso dal nero? eccetera per esempio il colore rosso è il colore più difficile da lavorare perché ha dei tempi di asciugatura molto lenti per cui se si interviene sullo stesso colore rosso quando non è asciutto si rischia di creare dei buchi nel colore per cui dei problemi tecnici per cui i tempi di consegna sono sempre variabili in base all'asciugatura e a queste difficoltà ecco queste problematiche tecniche ok allora ci fermiamo un attimo e dopo mi illumini anche di altri quadri che hai fatto a seconda del tuo periodo siamo storico va bene ok grazie grazie a te grazie a te